Una postazione nel laboratorio di chimica del Livi, il ricordo di Enrico Bardazzi, che ha frequentato il liceo 35 anni fa e il 26 di marzo del 2019 è morto. L'idea è stata dei suoi compagni di classe con cui ha condiviso gli anni delle superiori, ma anche tanti momenti d'adulto, quando ormai era un chimico affermato. Una donazione, uno strumento scientifico esattamente, uno strumento per l'elettroforesi, per lo studio del DNA al laboratorio del liceo Carlo Livi, è stato un po' lo strumento per tramandare agli studenti di oggi il messaggio dell'importanza della scuola, delle amicizie che nascono sui banchi di scuola, per anche la vita futura. La donazione era pronta lo scorso anno, ma essendo in pieno lockdown è stata rimandata. Ora, finalmente, è a disposizione di tutti i ragazzi. Il fatto che si voglia ricordare così questo compagno di classe, Enrico Bardazzi, che si voglia lasciare un segno alla scuola è l'affetto, è il segno dell'affetto, del riconoscimento nei confronti della scuola. È un bel esempio per i ragazzi di oggi. Per noi che abbiamo anche il liceo scientifico, abbiamo le classi del percorso tradizionale del biomedico, diventa veramente un'opportunità importante. I ragazzi potranno sperimentare questi procedimenti che poi trovano sui libri, ma poterli sperimentare concretamente è veramente un altro apprendimento.